Altri sette posti di terapia subintensiva nel reparto di malattie infettive dell'ospedale regionale San Salvatore dell'Aquila diretto dal primario Alessandro Grimaldi, una cerimonia sobria per inaugurare nuovi spazi per i pazienti affetti da covid e non solo, posti che si aggiungono agli otto già attivati lo scorso 18 marzo. Quello che viene fuori è un mini reparto di subintensiva da usare per assistere quei pazienti che hanno bisogno di una ventilazione non invasiva e che non necessitano di essere intubati. Il reparto in totale ha 24 posti letto organizzati in due ali, quella dove sono attualmente ricoverati i pazienti e la nuova inaugurata oggi. Su 24 posti letto 15 sono dedicati alla terapia semintensiva e quindi è una dotazione che diventa patrimonio della città e devo dire che già avevamo un reparto con la pressione negativa perché abbiamo 12 stanze per un totale complessivo come dicevo prima di 24 posti letto tutti a pressione negativa quindi c'è massima sicurezza. Purtroppo questo territorio è ancora sotto pressione in particolare la Marsica ma anche l'Aquilano qui non si intravede ancora una discesa della curva, speriamo che ci sia nei prossimi giorni e questo ci obbliga a tenere alta la guardia. Ovviamente il desiderio nostro e di tutti è che con la bella stagione e con le vaccinazioni si possa arrivare finalmente a riaprire qualcosa e quindi diciamo a dare un po' più di respiro alla gente. Gli operatori sanitari ovviamente sono sotto stress come tutta la popolazione diciamo della cittadina quindi direi che in queste situazioni è importante diciamo dare anche una speranza alla gente. La vecchia stanza del Day Hospital ora viene usata per la terapia degli anticorpi monoclonali iniziata già da qualche giorno a pazienti particolarmente a rischio. Il reparto ha una parte ambulatoriale per ecografie per il long covid per assistere quei pazienti che pur essendo guariti hanno ancora posto mio complicanze. Per il manager dell'Aslu 1 Roberto Testa l'ospedale ha mostrato una grande flessibilità e capacità di riorganizzarsi. Oggi si completa appunto anche quest'altra ala del reparto di malattie infettive e quindi siamo a pieno regime. Avremo questi ulteriori posti letto disponibili che anche in questo momento in cui c'è proprio una recrudescenza della casistica risultano particolarmente utili.